Sindaco, Valle Castellana torna a essere il teatro delle paure e da mercoledì 10 agosto torna infatti la notte delle paure. Sì, Valle Castellana ha avuto e avrà nei prossimi mesi, fino a ottobre, novembre, un ricco cartellone di manifestazioni. Voglio ricordare che io nel mio territorio ho la presenza di 12 associazioni, fra proloco e associazioni non profit. All'interno di tutte queste manifestazioni sacre, eventi, festa del boscaiolo eccetera eccetera, c'è questa chicca, io la ritengo, sono un po' affessionato anche perché sono uno dei creatori di queste manifestazioni, c'è questa chicca che si chiama la notte delle paure. È un evento particolare, pensiamo abbastanza unico nel suo genere e per tutta una serie di ragioni che poi magari avremo il tempo di spiegare successivamente. Parliamo un po' di questo spettacolo itinerante, che cosa accade durante questa notte? Allora, intanto voglio dire, più che ricordare, che dopo tanti tentativi, sono anni che cerchiamo di realizzare questo evento a Castelmanfrino, che è una location assolutamente particolare, assolutamente speciale. Quest'anno ci siamo riusciti, anche con la collaborazione della Regione Abruzzo, di cui non abbiamo ancora l'ufficialità, ma spero arrivi presto, del bimbo d'ordino a mano, del comune di Valle Chesellana che io rappresento e della sovrintendenza dei beni architettonici della Regione che ci ha autorizzato. Quindi è un evento particolare già per questo motivo. Poi ha tutta una serie di particolarità, tipo la passeggiata a piedi che precede lo spettacolo, l'evento che si svolge esclusivamente al buio, senza illuminazione elettrica, quindi soltanto con illuminazione artificiale, a seguire c'è una cena tipica, classica, quindi sono tutte particolarità che anche quest'anno noi ripeteremo, ripeto, in questa location molto molto particolare.